Siamo notati Gesù e Maria, abbiamo ascoltato la notizia della prima lettura della lettera di San Paolo a Romani che ci accompagnerà nei prossimi giorni e che ci ricorda la bella verità e notizia dell'obbedienza della fede che gli apostoli sono chiamati a ottenere da parte di tutte le gente l'obbedienza della fede che si ottiene in maniera molto semplice predicando la verità e annunciando Gesù Cristo come unico salvatore, quindi senza mezzi, forme o prodigi straordinari, come del resto anche Gesù del Vangelo parlando del segno di Gioca e della sapienza di Salomone ci ricorda, lui dice che c'è un segno di malvagità nelle sue generazioni di andare a cercare segni strani, segni sensazionali e volevano che Gesù facesse chissà che cosa per dimostrarti che era il giro di Dio, lui ha alcuni segni regalati, quindi credeva opportuno, dove, quando e come la sua intelligenza divina ha voluto farlo ma non soddisfaceva il desiderio malzano di andare continuamente a chiedere sedi in prove all'atto per credere, questa è una perversione come lo stesso dice. E ora l'intenzione, Gioca che cosa fece? Gioca che cosa ha fatto? Ha predicato, e ha predicato in maniera anche molto semplice, guardate, abbiamo sentito una settimana scorsa, ancora 40 giorni, se non la piantate Dio distruggerà questa città a capo dei due peccati, e che hanno fatto? Si sono convertiti e Dio non l'ha più distrutta. Questo è bisogno della regina del sud, Salomone, sapete che prima di purtroppo impazzirsi, perché al termine della vita, a causa delle donne, Salomone perse il senno, ma prima di questo punto di episodio, Salomone è passata la storia con uno dei più sabienti personaggi della terra, e questo personaggio, la regina del sud, si fece migliaia di chilometri, avendo appreso la notizia di questo uomo di sabienti in Israele, per andare ad ascoltare. non era una cosa strana, non è che Salomone volava, facesse magie particolari, parlava a un linguaggio particolarmente ispirato, cioè si fece migliaia di chilometri per andare ad ascoltare. Quindi questo per dirci che il nostro Signore generalmente ci intercetta attraverso cose molto ordinarie e che è alle cose molto ordinarie che dobbiamo fare attenzione e prestare tempo. Ecco. Ultima considerazione di oggi, oggi la Chiesa celebra la memoria liturgica di una grandissima santa, poco conosciuta di per se stesso, di per se stessa, scusate, molto conosciuta per la emozione che si è manifestata attraverso l'idea di la santa e Santa Margherita Maria Alacoque, mistica e Santa Francese, vissuta nel XVII secolo, dal 1647 al 1690, e a lei al padre Gesù, dando liberazioni, come si vede sul Sacro Cuore, che ci è avvenuto nello scorso mese di giugno ci abbiamo fatte tutte le ore sante del giovedì sera attraverso gli scritti proprio di Santa Margherita Maria e ciò che Gesù rivelò a lei del Sacro Cuore. Gesù, un altro, disse che Santa Margherita fu tra le tre donne nel corso della storia che le avevano amato più di tutti e le altre due sarebbero state Santa Veronica e Giudiani, un'altra, una di classe, stavolta italiana, e poi una mistica della Nord Europa che è Santa Gertrude, vissuta nel XIV secolo, l'altra anima molto amante di Gesù. E in effetti le nostre Signore non solo sommamente gradini, ma ricambiò non soltanto attituto personale, ma il nostro Signore visse una bellissima storia d'amore, questa non di scandalizzare questa possibilità storia d'amore certamente divina, ma una storia d'amore vero e non solo con lei, ma con molte altre sante. Come abbiamo ascoltato, siamo stati ammessi a questa Domenica, sapete che la nostra vita è la categoria fondamentale di quello di Gesù e Dio vuole installare con l'anima e con il suo popolo. E le liberazioni del Sacro Cuore sono un dramma, perché vedete che abbiamo questa storia della statua, è Gesù che mette al nudo il mistero e il suo amore immenso, che non trova uno che lo accolga, perché parla di indifferenza e di gratitudine, e meno ancora chi lo ricambia, e meno ancora chi lo ricambia talmente tanto che è capace anche di amarlo per chi lo ama, compiando dei gesti di riparizione, però tutte queste cose sono Gesù dei cuori. E tuttora, oggi, sta in cerca di anime di questo genere. Se qualcuno gli viene questa santa ispirazione all'asse, conti, non lo pensiamo, bisogna essere per forza dei grandi santi o dei grandi mistici. E con Gesù stesse identiche disposizioni, stesse identiche cosa è liberato la Madonna a Fatima, con liberazione del cuore del mistero di Dio. Il problema è quello di Maria tale e quale? I denti. Quindi anche il lavoro della Madonna cerca i cuori che raccogliano, cerca i cuori che non ingambino e cerca anche i cuori che siano capaci di ricambiarla talmente tanto da riparare per tutti quelli che vestivano la Madonna, non hanno una Madonna, la rivoluzione dei primi cinque salvaghi del mese, quella comune con la riparatrice, quindi come la rivoluzione dell'unico del mese. Sono cose molto belle che ci aiutano veramente ad entrare nel cuore del mistero di Dio, che è un mistero di amore vero, profondo, intenso, dentro il quale poi tutto quello che comporta la vita di fede, l'ascesi, i comandamenti, la perfezione, la santità, trova senso. E chi ama fa qualunque cosa della vostra madre, chi non ama, sapete che ci sono delle apparizioni che sono ancora sotto la, come dire, sotto il giudizio della chiesa, per cui parlando da pulpito devo fare questa premessa, non sono riconosciuti, sono quelli di Mijunoni, sapete che la Madonna mi ti vorrei avrebbe chiesto dei gesti forci tipo Mijuna Paniacolo, che pure Dio e Benedì, giusto? Ecco. E però un po' di Mijuna Paniacolo, pesa a chi non ha amore. Ma se qualcuno mi ama veramente e vuole fare questa cosa, mi chiedo certamente per il peggio motivo, sicuramente non gli messe. Da questo tipo c'è un'esperienza di tutti quanti. Se amiamo veramente qualcuno qualcosa, siamo disposti a fare molto per quel qualcuno o per ottenere qualcosa. Quando non abbiamo abbastanza, è chiaro che ogni piccola cosa ci diventa un peso. Bene, chiediamo a Gesù e Maria che ci aiutino a entrare in questa dinamica, in questo orizzonte di amore, perché dentro di esso tutto diventa meraviglioso, splendido e soprattutto bello e leggero. Siamo contati Gesù e Maria. Grazie a tutti.